Sì, bentrovati a tutti e a tutti. Questa sera voglio condividere con voi questo documento appello delle comunità ecclesiali del VCO che abbiamo fatto, pensate, nel 2011 per un servizio socio-sanitario attento agli ultimi. Avevamo portato quasi 7.000 firme all'assessore alla sanità di allora che era a Monferino. Eravamo andati proprio nel palazzo della regione a Torino con il direttore della Caritas di allora Don Dino Campiotti, con il vicario del Verbano Don Roberto Salsa, Don Brunello Floriani era il vicario del Cusio e Don Luigi Preioni il vicario dell'Ossola, dove si chiedeva che non si può tagliare la sanità perché il conto lo pagano i più deboli, lo pagano i più disagiati, lo pagano gli ultimi. Oggi cosa dovremmo dire che le cose sono molto peggiorate, si parla molto della sanità ed è chiaro che se i soldi vanno da altre parti vedremo sempre più una sanità privata o vedremo sempre più come diciamo spesso aumentare le guerre e non le cure alle persone. Io sono qui con alle spalle questo centro alla Colma, Cass, dove abbiamo accolto, cercando di dare loro un'accoglienza umana, un centinaio di ragazzi sono qui per conto della prefettura, ci sono tanti problemi, noi cerchiamo di superarli ma i problemi restano e con loro abbiamo rapporti belli, umani, anche se il ministro dei trasporti in questi giorni, lo vediamo con i suoi video, rivendicando che sei anni fa ha difeso l'Italia dall'invasione dei clandestini, ha difeso i confini e non si pente minimamente. Io credo che quel gesto non sia stato un gesto solo politico, di una parte politica, non mi interessa, ma è un gesto disumano che calpesta l'umanità e per me che sono credente calpesta anche il Vangelo. Forse mi avete visto con la barba tagliata, proprio due di questi ragazzi ospiti qui alla Colma mi accompagneranno nei prossimi giorni per un ricovero all'ospedale, ma venerdì c'è comunque non di solo pane. Arrivederci.